E' stato molto contento, veramente, ve lo dico col cuore. All'arrivo ho risultato come se fosse una gara di Coppa del Mondo quando facevo l'atleta. Diciamo che mi rodeva ancora un po' come era andata l'anno scorso, aver perso in volata per due secondi da Yuri, che non può essersi considerato mai uno sprinter in vita sua. Però ero veramente un po' dubbioso sul mio stato di forma, perché 500 km su km giù. Il Croce Down l'anno scorso mi aveva preso molti crampi e invece ho fatto... Sono andato su veramente forte lì, mi sono tenuto due compagni, due gregari e sono riuscito ad arrivare qua felice e contento. E' l'outsider, poi dopo c'è stato invece che battere Yuri, mi ritrovo con Antonio II e chi l'avrebbe mai detto. Yuri secondo me sta rosigando, il più sportivo ovviamente è Paolo Bettini. E poi dopo devo fare un grossissimo complimento alle ragazze della Nazionale di Scilifondo, le ragazze che io alleno, che si sono comportate veramente bene insieme a Paola Pezzo e Gabriele Apparuzzi. Grazie.